Buonasera e bentrovati su Reteconomy, questa è Auto 3.0. Come ogni settimana cerchiamo di raccontarvi l'automobile da tanti punti di vista, dal punto di vista economico, sociale, manageriale. Come vedete siamo all'aperto, sulle colline di La Spezia, ospiti dall'ingegner Enrico De Vita. Parleremo di carburanti, di qualità, di consumi, di truffe anche. Come sempre accanto a me, Roberto Boccafogli. Mi scuso, mi scuso per gli occhiali, mi vergogno moltissimo. Odio chi va con gli occhiali scuri in televisione, ma il riflesso è incredibile, del resto la cornice è talmente meravigliosa che insomma qualcosa dobbiamo concedere. E ringrazio sia per essere qui con noi e per averci ospitato l'ingegnere Enrico De Vita, editorialista di Automoto.it. La nuova visione dell'economia.